Sta ancora dando un abbraccio a Jude Bellingham, ma adesso arriva, eh. Fate le vostre domande in inglese, spagnolo o italiano. Una domanda qua sulla sinistra. Buonasera Carlo. Complimenti per la vittoria. Sono già 14 trofei e hai raggiunto Miguel Angel Munoz nella storia del Real Madrid. Quindi quali sono i tuoi sentimenti, le tue sensazioni? E sai che adesso fai parte della storia di questo club. Sì, sì, sono molto contento e per me, come ho detto ieri, è un onore e è un privilegio allenare questa squadra. Oggi abbiamo fatto comunque bene, è stata una partita difficile nel primo tempo perché l'Atalanta ha cercato molto bene, è stata molto forte nei duelli. Abbiamo avuto delle difficoltà. Quando la partita si è aperta un po', allora poi la qualità che abbiamo lì davanti è venuta fuori. Però non è stata una partita facile. L'Atalanta per me ha giocato molto bene. Prossima domanda sulla sinistra, poi a destra. Complimenti per la vittoria. Alcune parole c'è da partita di Kylian Mbappé. È arrivato, ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, come normale per tutti, ma poi dopo, appena avuto il pallone buono, l'ha messa dentro. Cosa vuole dire su questo? Sì, ha una qualità enorme. Ha lavorato bene, ha fatto tanti scambi, ha lavorato a livello difensivo con gli altri. Credo che la squadra non ha giocato bene nel primo tempo, ma ha lavorato bene a livello difensivo, che è una cosa più importante. Poi, ovviamente, quando si apre un po' la partita e abbiamo più spazio, è molto più facile per noi. Vinicius ha contribuito molto. Tutti i giocatori là davanti, Bellingham, anche Bellingham, Rodrigo. E la squadra, nel secondo tempo, ha giocato molto bene, secondo me. Buonasera, mister. Giorgio Dusi, Bergamo News. Complimenti, anzitutto. Le volevo chiedere cosa vi siete detti con mister Gasperini a fine partita. Lui ha detto che parlate sempre di calcio e a volte un po' di vacanze. No, no, io le ho felicitate perché ha avuto un partito, come dicevo, difficile. Sì, gli ho fatto complimenti perché ha giocato bene. Gli ho detto che giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista, perché loro sono molto forti nei duelli, prestano molto e credo che quando hanno abbassato il ritmo noi abbiamo avuto più spazi e ci siamo messi davanti nel punteggio. Buonasera, mister. Lei ha avuto tantissimi calciatori nel Milan, nella Juventus, nelle sue due panchine con il Madrid, con la BBC. Non so dove metterebbe Bellingham, Vinicius e Mbappé, diciamo, fra tutti questi giocatori. Beh, è molto difficile. Abbiamo parlato ieri con lo staff cercando di confrontare la squadra del 2014. La verità è difficilissimo, difficilissimo perché nel 2014 la squadra era fantastica. Davanti c'era Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Ed era un attacco eccezionale. Quello che non cambia in questo club è la qualità della squadra. Avevamo tanta qualità nel 2014, abbiamo tanta qualità adesso nel 2024, dopo dieci anni. Buonasera, mister. Vorrei fare una domanda su Davide Alaba, che è piccola squadra. È infortunato da otto mesi e tanti sono dimenticati che è uno dei vostri centrali. A che punto è della sua riabilitazione? Che sensazioni ha Davide? Che sensazioni avete voi? Qual è il piano? Grazie. Sì, sta procedendo bene, sta lavorando a livello individuale. Sì, risponde bene, però necessitiamo andare con calma perché ha sido una lesione bastante seria e pensiamo che comincia a correre in questi giorni e speriamo che possa essere disponibile a breve. Oggi è stata la prima partita importante senza Toni Kroos e cos'è che le piace di più del nuovo centrocampo e che cose deve migliorare, grazie. Penso che i tre Bellingham, Valverde e Chiameni hanno fatto un grande lavoro. Dobbiamo pensare che questa è una partita diversa, c'erano tanti duelli, tanti uno contro uno, quindi era difficile trovare la superità in possesso. Quindi abbiamo cercato di giocare più verticale con palle lunghe e questo non è sempre andato bene nel primo tempo ma nel secondo tempo quando abbiamo avuto più spazio ovviamente abbiamo avuto più possibilità, più occasioni, ma penso che i tre abbiano giocato molto bene soprattutto a livello difensivo dando molto equilibrio alla squadra dietro. Ultime due domande, davanti e sulla sinistra. Complimenti Carlo, l'anno scorso avete avuto molti infortuni, partiti difficili, ma cosa pensate che sia la cosa più difficile all'inizio di questa stagione? Vi faccio buona fortuna, ma quali sono le cose più difficili? Beh, la cosa più difficile è trovare un buon equilibrio al centro con la qualità che abbiamo davanti e se riusciamo a farlo penso che possiamo avere una bellissima stagione. Abbiamo una rosa fantastica, per essere onesti, insomma, e quindi crediamo che lo troveremo questo equilibrio. Ecco, ultima domanda, per favore. Congratulazioni su un altro trofeo vinto. Lei aveva intenzione di mettere Edoardo Kamavinga nei titolari, ma poi ieri si è infortunato. Sì, vabbè, però si è infortunato. Purtroppo ho avuto questo infortunio. Sì, volevo mettere il titolare, ma ha questo infortunio che spero che sia una cosa veloce, una cosa da niente, perché comunque è un giocatore molto importante. Per noi lui poteva giocare stasera, ma purtroppo ieri si è fatto male. Grazie mille, grazie, buona serata, grazie. La conferenza è over now. La conferenza è over now.